Tutte le persone che si allenano con la squadra di Personal Training Show si allenano guidate dai colori. Oggi ti spiego perché i colori sono fondamentali per raggiungere i tuoi obiettivi. Ad ogni colore corrisponde un range di intensità. Durante il tuo allenamento si alterneranno azzurro, verde, arancione e rosso. Lo strumento che ti permette di sapere in quale fascia ti trovi è il cardiofrequenzimetro. Ma vediamo più nello specifico a quali obiettivi corrispondono queste fasce colorate. La prima è quella azzurra ed è quella dell'attivazione del metabolismo. La vedrai all'inizio del tuo allenamento, durante i momenti di recupero o nella flessibilità. Stai navigando tra il 60 e il 70% della tua frequenza cardiaca massima e ti stai dirigendo verso la fascia verde che è quella del controllo del peso. In questo momento il tuo corpo sta consumando tante calorie quante ne servono per mantenere il tuo peso forma. Ti trovi tra il 70 e l'80%. Stai per entrare nella fascia più importante che è quella arancione. È la fascia tra l'80 e il 90% ed è quella in cui il tuo metabolismo aumenta. Ciò significa che ogni momento passato in questa fascia ti permette di bruciare molte chilocalorie durante il tuo allenamento e, ascoltami bene, nelle 48 ore successive. L'ultima fascia è quella rossa. Questo colore è per i più temerari, quelli che vogliono aumentare la loro potenza. Infatti, stai raggiungendo picchi tra il 90 e il 100% della tua frequenza cardiaca massima. Vedrai lo schermo colorarsi di rosso nei momenti di sforzo più intensi, dove la F di forza e la F di fiato saranno messe a dura prova. Inizia ad allenarti con noi e colora i tuoi allenamenti. Grazie al report che riceverai dopo ogni allenamento avrai la bussola per dirigerti verso i tuoi obiettivi. Grazie a tutti.